Cambio al vertice del commissariato di polizia di Battipaglia. Il vicequestore della Polizia di Stato, la dottoressa Immacolata Concia, da oggi è stata trasferita al commissariato di pubblica sicurezza di Cava dei Tirreni come dirigente. Al suo posto è giunta in città il vicequestore della Polizia di Stato, la dottoressa Lorena Antonia Cicciotti, che è stata trasferita dalla questura come dirigente al commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia. La Cicciotti è diretta alla squadra mobile di Salerno, dove si è distinta per numerose operazioni, in particolare contro lo spaccio di droga.